Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D riprendono gli allenamenti le molisane per le molisane. Campobasso e Isernia proiettate al primo turno di Coppa Italia, entrambe domenica prossima in trasferta, eliminata all'Olimpia agnonese dalla competizione tricolore. Il martedì post prima gara ufficiale della stagione è sicuramente disteso in casa delle molisane. Tantissime indicazioni positive dai primi 90 di gioco in una competizione ufficiale. Qualcosa chiaramente da rivedere ma nel complesso le gare delle tre molisane lasciano guardare al futuro con discreto ottimismo. Nel derby su un campo quasi impraticabile si sono viste due squadre pronte per l'inizio del campionato. Un'Olimpia agnonese vivace con ottime giocate soprattutto in verticale tra centrocampo e attacco. Un campo basso tonico, cinico e quadrato impostato da Bruno Mandragora con il 4-4-2. L'agnonese ha creato problemi alla retroguardia rosso-blu con il gioco degli esterni, fatto di costanti tagli alle spalle dei difensori. Da segnalare in tale ottica la buona prestazione del classe 2001, Alex Sposito, portiere del campo basso, pronto a disimpegnarsi al meglio in più di una circostanza. Lupi come detto pratici, abili a sfruttare i calci piazzati con l'esperienza e la presenza in area di Branischi ed Improta. Insomma, come detto, una gara che ha lasciato indicazioni più che positive da entrambi i lati. Buoni i movimenti e la verve del Colored Granata, l'Amin Jiao, dotato di grande fisicità e velocità. Insomma, la cilegina sulla torta del mercato Granata non ha segnato, ma ha dimostrato di essere sicuramente un elemento importante per la categoria. Mercato praticamente concluso per agnonese e campo basso. Salvo qualche piccola operazione, nei lupi ricordiamo infatti cinque giocatori assenti domenica, precisamente Diop, Giacobbe, Morra, Spinelli e Sec, tutti potenziali titolari. Campo basso che tornerà in campo domenica a Cerignola per il primo turno di Coppa Italia, mentre i Granata torneranno a giocare minuti ufficiali il 16 settembre con l'inizio del campionato. Domenica prossima in campo anche Lisernia, questa volta Cassino, 1-1 nei tempi regolamentari contro la Nanni, poi vittoria ai calci di rigore e qualificazione al turno successivo. Anche qui indicazioni positive, la squadra ha giocato una buona gara nonostante diverse assenze. La fase difensiva ha dimostrato di poter dare garanzie da segnalare l'ottima prestazione degli Juniors su tutti Di Leonardo e Vitale, entrambi i prodotti del settore giovanile. Buoni anche i movimenti offensivi di Marco Di Matteo, a ritorno in Serie D dopo diversi anni in eccellenza. Il suo lavoro da mezza punta è sicuramente un'arma per Lisernia, anche se, come diciamo da tempo, anche da parte della società, c'è la volontà di prendere una prima punta di categoria. Veramente notevole il numero di attaccanti contattati dalla società, spesso le cifre richieste dai giocatori sono state però ritenute assolutamente eccessive dai dirigenti Isernini. Dunque la ricerca non è finita, l'operazione chiaramente si farà solo se in linea con le casse societarie, come giusto che sia. Intanto Mister Silva lavora al meglio sul 3-5-2 per offrire garanzie di squadra dal punto di vista difensivo e della compattezza in attesa dell'attaccante. Come detto, prima Bianco Celesti in campo, nuovamente domenica prossima a Cassino contro il team allenato dalla conoscenza del calcio molisano Corrado Urbano, per anni sulla panchina del Venafro e dell'Olimpia Agnonese, oltre che società dove milita il talento molisano Vincenzo Ricamato, ormai da anni tra i migliori centrocampisti della categoria. Buona la prima del campo basso. Nel post-gara del Civitelli abbiamo intervistato il tecnico. Mister Mandragora, 2-1 per il campo basso, ha vinto il cinismo della sua squadra sull'Olimpia Agnonese? Ma il cinismo è, tatticamente siamo stati quasi perfetti, abbiamo sbagliato qualcosa nell'occasione del gol, forse siamo entrati in campo e l'avevo avvisato i ragazzi che dovevamo stare attenti i primi minuti, ma almeno il calcio poi c'è anche un avversario. Ma di oggi un campo basso rimaneggiatissimo, ma quelli che ci sono stati hanno dato il cuore oltre l'ostacolo. E venire ad Agnone e dare questo biglietto da visita per noi è motivo di grande positività per il futuro. Avete sofferto il giusto? Abbiamo sofferto il giusto, però ripeto, atleticamente non siamo ancora al top, il prof sta lavorando alla grande, tutto il mio staff sta lavorando alla grande. Ripeto, pensiamo adesso a prepararci ancora meglio per l'inizio del 16, perché la Coppa Italia per noi è un rodaggio e sappiamo bene che dobbiamo affrontare un campionato difficile, ma nello stesso tempo bello e complicato. Lei ha detto in conferenza dateci altri 20 giorni per lavorare, poi vedrete già la nostra nuova faccia, vera faccia. Ma per quanto riguarda il carattere, oggi già il campo basso ha dato un piccolo assaggio del nuovo carattere del campo basso. Il nostro simbolo è il lupo, io l'ho detto voglio un lupo affamato, se ci mettiamo anche gli occhi della tigre e ci mettiamo anche la forza del cavallo, allora noi possiamo veramente fare bene in un gruppo dove vogliono fare bene, vogliamo viverla giornata dopo giornata senza fare voli pindarici e senza dire cose che in questo momento non vanno dette. Come accogliete o avete accolto, per meglio dire, perché è arrivata la decisione in settimana, lo slittamento dell'inizio del campionato? Ma non potevamo che accoglierlo bene perché noi abbiamo iniziato un attimino in ritardo, se pensiamo che questa società, questa proprietà, eravamo il 27 di luglio e non avevamo un giocatore, oggi penso che abbiamo un gruppo, i quali vogliono fare qualcosa di buono per la città di Campobasso, in questo Campobasso che noi siamo onorati di farne parte. Ha detto la Coppa Italia, per noi è un rodaggio, domenica si va a Cerignola contro una squadra quotata. Ma domenica andiamo a Cerignola, certamente ci prepareremo di nuovo per questa trasferta, questa partita, andando a incontrare una corazzata che sappiamo bene che andranno per la vittoria del campionato, ma noi non interessa, noi guardiamo in casa nostra, c'è una proprietà che ci fa lavorare bene, c'è uno staff di primo ordine, abbiamo un pubblico che cerchiamo di portarlo a Selvapiano tutti quanti e abbiamo dei ragazzi che vogliono fare bene. Antonio Mecomonaco, largo il successo del Campobasso, lei però ha detto che chi fa più gol vince onestamente, la differenza probabilmente dovevate essere più attenti sui calci piazzati? Sicuramente più attenti che sui calci piazzati, questo è fuori di dubbio, ma anche in fase offensiva dovevamo essere più precisi sotto porta perché comunque abbiamo fatto una buona partita e secondo me non meritavamo questa sconfitta onestamente. Poi ripeto, io rispetto il risultato del campo, il risultato del campo dice che abbiamo perso, quindi imborchiamo le maniche e andiamo avanti. Ha evidenziato un 4-3-3 nel quale la squadra si è mossa già bene, ha corso, è stata sul pezzo contro un avversario di esperienza perché ha dimostrato di avere esperienza questo nuovo Campobasso formato nel giro di pochi giorni. Assolutamente sì, un'esperienza importante in questo campionato. Guarda, ripeto, sotto l'aspetto della prestazione sono molto contento perché innanzitutto abbiamo fatto un gol di ottima fattura, abbiamo creato delle situazioni importanti, giocando sempre palla a terra, non buttando mai via la palla. Ripeto, contro una squadra, secondo me a livello di nomi, quando staranno tutti bene, sicuramente sarà una squadra forte, però io sono molto tranquillo del lavoro che ho svolto fino adesso, sono una squadra tutta nuova. Anche noi siamo partiti leggermente in ritardo per quanto riguarda la preparazione, quindi posso solo dire che sono contento della prestazione, un po' meno del risultato, però cerchiamo di migliorarci il più in fretta possibile. L'ho chiesto anche a Mandragora, lo chiedo a lei, sullo slittamento del campionato di due settimane, dal 2 al 16, nel frattempo c'è questa attesa che si protrae sui gironi di Serie D. Quest'anno si inizia più tardi. Sì, era meglio giocare, però ovviamente noi dobbiamo rispettare le regole, quindi se si gioca il 16 noi ci prepareremo per giocare il 16, e non possiamo fare nulla tanto, anche se non siamo contenti di questo. Quindi andiamo avanti, lavoriamo, e sono sicuro che questa squadra ha ancora margini di miglioramento, perché è una squadra molto giovane e quindi i giovani sappiamo che hanno una crescita importante nel tempo, dobbiamo aspettare sicuramente un po' di tempo per vedere una squadra, secondo me, buona e che dia soddisfazione ai nostri tifosi. Bocce, la bocciofila Monforte di Campobasso festeggia 80 anni di attività sportiva nella struttura di Villa dei Capo a Campobasso. Nel prossimo fine settimana si terrà uno a due giorni di gare, sabato a partire dalle 14.30, si terrà una gara a terne denominata Io e i miei amici. La terna vincitrice si aggiudicherà il trofeo Luigi Di Lallo, realizzato dal laboratorio artigianale di Axel e Silvano Ciccarella di Via Calderari a Boiano. Il trofeo è dedicato all'ex presidente della bocciofila Monforte e uno dei precursori della società sportiva del capoluogo di Regione che da 80 anni ha sempre rinnovato l'affiliazione alla Federazione Italiana Bocce. Il giorno successivo, domenica, è in programma invece una gara giovanile riservata agli under 18, 15 e 12. Calcio regionale venerdì alle 17.30 presso la sala convegni del Comitato regionale Molise a Ripalimosani si terrà la riunione ufficiale di inizio attività riservata alle società partecipanti ai campionati d'eccellenza e promozione, nel corso della quale è prevista la presentazione anche dei calendari stagione che inizierà il prossimo 9 settembre. In eccellenza buona la prima di Coppa Italia per il Termoli che si è in posto di misura sul Trivento prosegue il lavoro della società giallorossa. Palo Castelluccio, presidente del Termoli Calcio, nuova stagione, nuovi impegni, nuovi sacrifici. Sei pronto? Hai lavorato tanto quest'estate? Soprattutto per rimettere insieme la squadra, creare una nuova dirigenza? Stai lavorando perché ancora hai fatto poco ma stai ancora tanto lavorando? Di partenza siamo riusciti, la prima cosa era creare la società nuova, ci siamo riusciti. Piano piano stiamo mettendo insieme la squadra, pure oggi si è visto, hanno giocato tutti i ragazzi 2001-2000, ragazzi comunque importanti. Il centrale infatti l'abbiamo preso dal Napoli, è di proprietà del Napoli Calcio, quindi è un 2001 con tanta esperienza, il 4 anche dalla regina, quindi è un 2000 apporto. Pescheremo ancora altri, tutti under, però esperti che potranno benissimamente dare una mano in questo campionato. Senti, presidente, poi hai regalato la chicca ai tifosi, il ritorno di Cirigliano, abbinato a Magliano. Questo era un regalo... I tifosi arrivano dall'anno scorso, loro per motivi loro, qualcuno familiare, qualcuno ha avuto un'offerta tipo Cirigliano l'anno scorso dal Corrado che non si poteva rifiutare, quindi l'abbiamo lasciata andare. Quest'anno però i tifosi l'hanno rivoluti e l'abbiamo ripresa, quindi si è visto già il primo gol di Cirigliano. Presidente, che succederà? Stasettimana lavorerete ancora tanto, soprattutto perché devi far mettere nero su bianco l'allenatore, il direttore sportivo e qualche giocatore, però la squadra sarà pronta già nelle prossime settimane. Sì, in settimana arriveranno altri 3-4 elementi di categoria, stiamo aspettando sicuramente esperti, sempre da Napoli. Giovedì avremo un incontro amichevole col Foggia, quindi proveremo questi nuovi in testo importante, giovedì a Termoli, quindi cerchiamo di fare il nostro campionato. Anche la società si è allargata? La società si è allargata, appena i soci mi daranno l'ok saranno loro a salire e presenteremo i nuovi soci. Domenica prossima Coppa Italia, troveremo già altri giocatori importanti? Sì, ma già da giovedì contro il Foggia li vedremo, quindi cerchiamo di fare bene, questo è per i tifosi. Tra le neopromosse nel campionato d'eccellenza, il Rocca Sicura. Emiliano Di Pardo, uno dei dirigenti del Rocca Sicura, è alle porte una nuova stagione, questa volta nella massima serie regionale, dopo la cavalcata trionfale dell'anno scorso. C'è un ambiente positivo, ci sono tutti i presupposti per vivere una bellissima annata. Non c'è dubbio, io credo che la dirigenza abbia attrezzato una bella squadra quest'anno, quindi penso che faremo un bel campionato e credo che la popolazione di Rocca Sicura possa essere orgogliosa di questa bella realtà. Ecco, alla base prima di tutto c'è l'entusiasmo, perché possiamo dire Rocca Sicura ha una tradizione per il campionato di promozione. Tent'anni di amore, abbiamo scritto anche sul sito. Sì, diciamo, oltre al campionato di promozione, quest'anno è il primo anno nella massima serie regionale, quindi ci si augura che comunque la domenica per le partite in casa ci sia il tutto esaurito, così come anche in trasferta. Non c'è dubbio, hai detto bene, noi ce l'auguriamo, il supporto dei tifosi, dei sostenitori è una cosa fondamentale. Spesso si sente dire il dodicesimo uomo in campo, dai grandi stati fino alle categorie minori, quindi noi sicuramente chiediamo il supporto di tutti i sostenitori di Rocca Sicura. Ce l'auguriamo, faremo il possibile perché loro siano soddisfatti ed entusiasti di questa piccola bella realtà. Un'altra nota di merito, possiamo dire, alberga intorno al fatto della riconferma di Mr. Bonomi, non soltanto per i meriti poi guadagnati sul campo, ma soprattutto per la sua esperienza, per la sua conoscenza empirica di questo sport. Beh, non c'è dubbio, insomma, Claudio Bonomi non lo dice né il sottoscritto né altri, perché insomma il suo pedigree di giocatore professionista ha ottenuto sul campo la promozione e il presidente ha inteso riconfermarlo. Quindi in bocca al lupo al mister e speriamo di fare un bel campionato. Non vedete l'ora di tornare in campo? C'è la Coppa, rispetto alla passata stagione avete nel girone due nepromosti di promozione e poi giustamente la testa di serie che è dell'eccellenza. Ma sai, per chi vive di calcio come noi, insomma, noi siamo appassionati di questo sport, siamo sempre lì pronti che vogliamo vedere lo spettacolo in campo. Quindi sì, siamo contenti, ci stiamo proiettando questa nuova stagione, questo nuovo campionato, che sarà sicuramente difficile perché l'eccellenza, voglio dire, il massimo campionato regionale, ci sono squadre blasonate, insomma, quindi non lo devo dire io. Speriamo di fare bene, ci stiamo attrezzando per fare un buon campionato. Sconfitto nella prima uscita ufficiale lo spinete che ha ceduto all'Olimpia Riccia. Francesco Cornacchione, esordio stagionale positivo per te, visto il gol meno per la squadra, però non avete sfigurato contro il Riccia. No, guarda, io non credo che sia meno per la squadra perché abbiamo giocato comunque con una squadra di categoria superiore, a prescindere dal gol che è nato comunque da qualcosa che abbiamo provato in settimana. Penso che è stata una grande prestazione di tutti, dei nuovi e anche di chi in questa squadra c'è da molto tempo. Sicuramente si poteva fare qualcosa in più, ma allo stesso tempo, dal cinquantesimo con l'uomo in meno, ha un po' condizionato la partita dove ci siamo un po' rintanati per difenderla al meglio. Siamo all'inizio, c'è ancora da lavorare, da migliorare, però quanto visto all'esordio lascia sicuramente ben sperare in vista del campionato. Assolutamente, veniamo comunque da una prima settimana di preparazione, iniziata leggermente tardi, ma più o meno tutte le squadre hanno iniziato in questa settimana. L'obiettivo stagionale è la salvezza e credo che continuando a lavorare così con il mister, naturalmente con la disponibilità di tutti i ragazzi, penso che si potrebbero raggiungere grandi risultati e soprattutto centrare l'obiettivo stagionale, che appunto, come dicevo prima, è quello della salvezza. Continueremo a lavorare e queste partite devono permetterci di mettere fiato. Coppa Italia quindi da rodaggio, cercando di togliervi anche qualche soddisfazione. Sì, la soddisfazione principale è quella naturalmente di trasmettere serenità al gruppo e soprattutto a Spinete, creare quell'entusiasmo che viene meno da una stagione passata dove purtroppo c'è stata la mala retrocessione e di conseguenza riuscire a recuperare soprattutto un pochettino di pubblico che ci permetterà, che ci darà il supporto che ci vuole, che una squadra deve avere. Allo stesso tempo creando un bel gruppo dove ci sono comunque degli ottimi elementi, qualcuno che si deve ancora iniziare ad allenare come Vitone, come il mancato Natale che è fuori, penso che anche Di Petta appunto che ha avuto in settimana un brutto infortunio, un piccolo problema. Credo che con l'innesto di questi elementi si può fare veramente tanto e bisogna creare appunto, come dicevo, un grande gruppo perché in queste categorie è il gruppo che conta, non il singolo giocatore. Parlando del tuo gol, hai sfruttato diciamo quelle che sono le tue caratteristiche principali? Sì, diciamo che a campo aperto Nunziata è uscito, mi ha lasciato quello spazio che mi serviva per potermi allungare la palla e sono riuscito poi a metterla dentro con il destro, ma ripeto, è stato merito di pace che è riuscito a mettermi in condizioni di poter andare sull'uno contro uno con Nunziata e non merito mio. L'Ururi prosegue gli allenamenti, nel debutto di Coppa è arrivato un successo in casa del Matese. Francesco Pancia, centrocampista dell'Aurora Ururi, tornate col vecchio nome Aurora Ururi, un'annata importante per te, l'anno scorso non hai trovato quella grande continuità che invece cerchi in questa nuova stagione e ti stai preparando al meglio. Sì, l'anno scorso venivo da, che non avevo fatto la preparazione, quindi mi sono trovato molto indietro rispetto ai miei compagni di squadra, ho avuto anche qualche difficoltà in mezzo al campo, anche che mi sono fatto male, quindi sono stato fuori due mesi. Quest'anno ci sto dal primo giorno e voglio mettermi al posto per me, ma soprattutto per la squadra. La tua esperienza a servizio di questa squadra, anche perché hai fatto parecchi campionati di promozione, sei quasi un veterano, quindi vuoi affrontare questa nuova stagione nel migliore dei modi. Sì, sto io e altri dieci compagni, ormai sono tre anni che giochiamo insieme qui a Ururi, mi trovo bene e spero che quest'anno facciamo un ottimo campionato. L'ambiente sereno sicuramente stimola a far bene per il futuro. Sì, è stato un ambiente sereno dal primo anno, sono tre anni che qui mi trovo benissimo, da partire dal presidente, dalla società, dai giocatori, dal pubblico, dal paese, qua mi trovo davvero bene. Calcio A5 di Serie B torna all'appuntamento con la Shami in piazza. L'evento in programma 30, 31 e 1 settembre organizzato dalla Shaminade, un modo anche per conoscere la Scuola Calcio Rosso Blu, che inizierà la sua attività lunedì 10 settembre, la Shaminade Primavera. Inoltre lancerà anche un'importante iniziativa per il sociale, sulla base del valore Ilse, infatti ci sarà la possibilità di far giocare i propri figli per tutta la stagione gratuitamente. Potismo a Bagnoli del Trigno si è svolta la seconda edizione del Physic Level Urban Trail Balneoli, una gara potistica per promuovere il territorio, ma anche per la cura dello sportivo sotto il punto di vista medico. Giovanni Acche Nero, come commentiamo questo circuito? Il circuito è bellissimo, io non correvo da un po', è stato il motivo per ricorrere, Bagnoli del Trigno è spettacolare, siamo stati sui borghi più belli d'Italia, non devo dirlo io, e quindi tecnicamente è un urban trial, perché è un urban trial veramente affascinante, ogni volta rifare il giro dietro al prato, rivedere il paese. L'anno scorso abbiamo fatto una sorta di edizione zero, possiamo dire che questa era prima, e noi credo che l'evento crescerà, perché è molto divertente, e quindi da, tra virgolette, atleta mi sono divertito moltissimo. Infatti in questa ultima domenica di agosto, più di 40 atleti provenienti anche da fuori, e il Molise il bilancio è sicuramente positivo come promozione del territorio, direi. Molto positivo, noi siamo un'azienda, perché PhysicLevel è un brand dei nostri prodotti per lo sport, noi siamo un'azienda, come sapete voi benissimo, molto radicata sul territorio, per noi promuovere il nostro territorio, questa terra che non c'è, è quasi una mission, e quindi ci crediamo moltissimo. E ogni volta abbiamo occasione di fare qualcosa per andare oltre i soliti schemi, noi siamo molto contenti. E poi, come ho detto anche nell'intervista precedente, questo binomio sostanze naturali sport non può che crescere tantissimo. Infatti si promuove il territorio, si promuove lo sport in particolare in questo caso, diciamo l'atletica, si promuove la sana alimentazione, anche associata allo sport pre-post-gara. Noi lavoriamo a tutti i livelli, quindi nutrizione, integrazione, benessere mentale, perché sono tanti gli aspetti, perché uno può essere anche un atleta stressato, un atleta fissato, un atleta quasi ortoressico, quasi malato. Noi, diciamo, perciò anche chi è malato di sport. E noi vogliamo creare un benessere che sia veramente, che tocchi tanti aspetti dell'essere umano, che non è soltanto una perfetta forma fisica, perché la forma fisica viene da una buona forma mentale, da non star bene. E noi crediamo che in questi nostri territori, insomma, crediamo che forse sono i territori del futuro, perché qui veramente si vive a misura d'uomo e il benessere mentale è la molla che fa scattare tutto per fare sport, per scegliere i giusti alimenti, alimenti puliti. Qui abbiamo il Calice Rosso, che è il nostro ristorante, dove tengono tantissimo a questi aspetti. E quindi, ecco, noi chiamiamo quest'area la Domus Area, la nostra area di casa, perché qui nascono i nostri progetti, che poi diffondiamo in tutta Italia. Infatti, Fisic Level parte dal Molise, con l'ambizione però di diffondersi, prima di tutto, in tutta Italia, poi dopo. Fisic Level è un format nuovo, fitoterapia e sport. Abbiamo già sponsorizzato diversi eventi come sponsor. Siamo stati partner tecnici di diverse società, anche calcistiche o la Baricalcio, l'anno scorso Molini Spoleto, Di Volle, quest'anno ci sono altri contatti, perché noi non vogliamo fermarci alla semplice integrazione, ma andare oltre, seguire l'atleta a 360 gradi, prevenire gli infortuni, gestire in maniera non tossica l'infortunio, il recupero dell'infortunio. E siccome in tutta Italia abbiamo i nostri collaboratori, abbiamo i medici che collaborano con noi, quindi riteniamo che abbiamo il format ideale per poter ricreare un evento simile in altri posti. Pallacanestro di Cigold start alla stagione 2018-2019 del Globo Isenna. Nei giorni scorsi, arrivata di Isenna Francis Torreborre, il Play Belga è tra i migliori prospetti del basket di Bruxelles. Nelle prossime ore sono attesi gli arrivi di Francesco Maria Porfidia, Play 19enne Casertano, lo scorso anno giocato in Serie B con la pallacanestro Alto Sebbino e Dario Scozzaro, classe 92, lo scorso anno a Cassino in Serie D. In chiusura vi segnaliamo un appuntamento per il Summer Live del Forno Pizzeria Marzitelli, giovedì Nicola Mastropaole e Antonio Mandato in Campobasso e Napoli sotto il Castello. Appuntamento a partire dalle 20.30 presso il locale in via Sant'Antonio Abate a Campobasso. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!